ho detto una cosa diversa io intendevo che ti esageri e se le mangi male aspetta marzo aspetta marzo ecco qua un altro mi chiamogli plano pure a questo non vedo l'ora che esce la season 6 oh ma questo mi sta guardando no non mi sta guardando orco 2 eh cosa cosa no regà è impossibile no 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 fermi questa cosa è impossibile questo sta questo h questo citta regà mi ha fatto 3 hs di fila boom 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 no regà questo sta cittando no io lo spectro io lo spectro io lo spectro assolutamente non ho mai visto una cosa del genere regà 60 60 60 tre colpi mi ha dato tre colpi in testa di fila regà mi ha fatto una hs in volo e tre a terra ma marzo mi ha fatto una hs in volo e tre a terra cioè come ho fatto a vedere la chest e non ho visto la slurp sul tetto ma regà voi che avete visto la clip che cosa ha fatto madonna si sente lo scroll della rotella marzo si voglio farti il cazzo il cazzo di microfono in merda te lo compri che hai 100 sub sei ricco ora regà voi che avete visto voi che avete visto mi ha fatto una hs in volo e tre a terra 60 60 60 60 60 mi ha fatto no lo so lo so ti ha segnato il be hai visto hoci anche non dovevi rompere i coglioni marzo mi hai sentito cosa o mi ha appena ucciso un hacker un hacker bro mi ha fatto 60 60 60 60 di fila bo 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 ma non funzionava bene l'anticidito gioco ah regà come cazzo ho fatto a farmi 4 volte 60 uno che si muove così scusatemi come cazzo è possibile cioè mo con tutto il rispetto eh ma mi ha fatto 4 hs cioè nemmeno io ho la mira che fa 4 hs come è possibile sta cosa cioè 4 hs di fila non l'ho mai visto in vita mia regà sono scioccato a prima vista sembra un bot gli sono planato in gola regà regà gli sono planato nella gola gli ero planato non lo so regà se ora non fa 2 hs di fila al primo tizio che incontra vuol dire che sta che poi manco mi ha preso il mio loot che avevo lo scar avete visto manco ha preso lo scar regà ma quanto si muove strano guardate come si muove strano ma vaffanculo va 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 non si possa credere ma vaffanculo va c'ha tutto c'ha wallhack aimlock c'ha tutto questo regà c'ha il chest hack guardate come si controlla intorno c'ha le questo c'ha esp aimlock loot hack c'è c'ha tutto c'è questo c'è il pacchetto completo c'è il pacchetto premium ah lo scar silenziato ora vediamo e dai eccolo qua il nick fate uno screen riportatelo ovunque questo aspettate che leggo la mia la mia cam riportatelo tutti questo c'ha tutto ti ho visto come si è girato di 360 gradi per vedere se c'aveva un player intorno ci posso credere c'ha tutto regà c'ha il pacchetto completo deluxe full optional proprio ma mi state a trollà ragazzi io faccio schifo in confronto a questa a sparare ma tu quei schifo non ti in confronto a me oh buonasera ciao blink no blink vieni a vedere la mia streaming e guarda questo che citta arriva 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 fa paura addirittura eh 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 oh oh buono eh la madonna dai regà se questo non è cheat porco giuda stava non si vedeva il nemico non c'era regà non l'ho visto nemmeno io quel cazzo è ah sì questo c'ha esp c'ha esp chest no chest loot hack più c'ha limelock c'ha tutto c'è questo c'è il pacchetto completo guardate pacchetto completo regà guardate guardate lo sta attaccando dietro al muro è tutto puoi parlare? che è un botta a pedali è un botta a pedali ma guarda 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 manco manco lo vede sto arrivando io ho incontrato uno anch'io ho incontrato uno un botto tempo fa però poi sa beh io pure l'ho incontrato un botto di tempo fa è uno skin 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 guarda guarda come fa di pre... fa finta di sparare nei punti dove non... guarda guarda guardate si blocca il mirino sulla persona guardate useranno guarda sta cercando di fare un wall bag attraverso una collina cosa stai cercando di fare? ma addio almeno nascondi le ste cose però Joe allora se lui costruisce con poi e spara bene non è cosa sua palese costruisce con poi palese ma poi perché non gli va a sparare non li pusha c'ha pure paura di morirci sta pippa al sugo che... guardatela guardate che roba che cazzo di tracking è ma è solo bravo guarda guarda anche attraverso guarda ora ci muore ora ci muore perché non sa giocare non sa giocare oddio ma quanti gliene mancano? 1v1 è tutti quanti DR ha fatto prima una cosa fuori di testa c'era un in un bush di pa 100 metri lui la... lui la... non si vedeva ovviamente lui boh 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 matto ah è perché non è per... non è... si ah 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 che cazzo è? si fa miramira per aver donato il sub a Michele Misteri grazie mille Andreone giù è più o meno quello che hai sul controllo spumando la mira ah sì questo è scarso come l'acqua in Africa ma usa lo scappo ma non costruisci? è il ferro che è bom 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 wow wow fermo cazzo duro eh cazzo di ma... cazzo di marmo cosa? no no dai dai che mi spray di tutto oh no ah 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 e piani giù e malai vai riman la parami oh io voglio vedere come ti ha chillato questo ma chillato che è boh sono imploso sono imploso conta regà non sapeva fare una scala e un muro manco io ero così minion quando ho iniziato a giocare a sto gioco AHHHHHHHHHHHHHHHHH